Il confronto con gli altri artisti l'ho cercato sempre, più che confronto, proprio una conoscenza con altri artisti, anche perché non venendo dal mondo dell'arte da subito, non ho avuto un percorso lineare, è un po' come se a un certo punto io proprio me li sono andata a cercare, perché è una questione di risonanza proprio e di bisogno di nutrire la parte della creatività, anche e soprattutto con persone molto distanti dal mio linguaggio, anche dagli interessi. Ma perché effettivamente, grazie al dialogo con altri artisti, nascono spesso momenti di riflessione interessanti, momenti di condivisione, anche di supporto, di crescita. E quindi direi che proprio è essenziale, assolutamente sì.